Bentrovati, ancora un incontro virtuale, questa volta con il sindaco di Taormina, Mario Bolognari. Bentrovato sindaco, la situazione di Taormina è particolare perché con questa emergenza il turismo è crollato certamente a picco, è compromessa l'intera stagione estiva a suo avviso? Buongiorno, diciamo che è compromessa perché noi abbiamo avuto i primi due mesi di lavoro, sono due mesi non particolarmente tradizionalmente molto ricchi, ma avevamo avuto un aumento del 20% rispetto ai primi due mesi del 2019, quindi la stagione si presentava in modo particolarmente ottimistico. Il blocco totale naturalmente farà partire la macchina in ritardo, ma soprattutto con questo grave handicap. Le proiezioni fanno immaginare un calo del fatturato che a giugno potrebbe sfiorare il 60% rispetto all'anno precedente, il che naturalmente è estremamente preoccupante e non pone solo il tema di quanto danno si sta facendo in lockdown, ma quanto danno si farà nel ripartire, cioè questa macchina organizzativa che ha bisogno anche di un tempo per potersi rifornire, per poter procurarsi tutti i servizi necessari, questo naturalmente si trascinerà per tutto il 2020. Nessuno è in condizione oggi di fare una previsione ben precisa, però potremmo andare oltre, molto oltre il 50%. Turismo a picco è una crisi epocale? È una crisi, non so se è epocale, ma certamente è una crisi che può essere paragonata a quella del blocco del turismo, per esempio durante la Seconda Guerra Mondiale. Per riprendersi Taormina, ma tutto il resto d'Italia, ha avuto la necessità di parecchi anni, perché non si tratta soltanto di quando si apre, ma anche di come si apre e con quale mercato si lavora. Taormina ha su 1.150.000 presenze turistiche totalizzate nel 2019, record storico, l'85% sono stranieri. Quando torneranno gli stranieri in Italia? Quando torneranno in Sicilia? Beh, questo noi non lo possiamo sapere perché dipende dalle politiche dei governi di questi paesi stranieri, dipende anche dalle politiche europee, dipende molto dal concerto internazionale che interverrà sul piano politico ed economico tra le diverse grandi potenze. Quando si parla di turismo si pensa soltanto a albergatori e ristoratori, ma dietro agli alberghi e ai ristoranti c'è tutto un indotto. Esatto, esatto. Basti pensare un albergo di quali oggetti è composto e di quali servizi ha bisogno per capire che c'è tutto un indotto che parte dall'agricoltura, dall'industria agroalimentare di trasformazione dei prodotti agricoli, i trasportatori, coloro i quali poi commerciano sul posto e fanno arrivare fino al singolo turista tutti i prodotti, ma anche pensiamo agli oggetti di cui è composto un ristorante, un bar. Se il ristorante e il bar chiudono o i loro affari vanno male, inevitabilmente è tutto un indotto. Io penso che il danno di Taormina non è Taormina, ma il danno di Taormina è tutto un Interland che prende una buona parte della provincia di Catania, perché noi siamo, come si sa, sul confine del fiume Alcantara, e una buona parte della provincia di Messina. Ma probabilmente questo riverbero negativo travalica persino i confini nazionali, perché basti pensare che noi abbiamo 11 alberghi a 5 stelle e questi 11 alberghi sono per gran parte di proprietà di grandi multinazionali, le quali avranno un tracollo a livello planetario e inevitabilmente soffriranno anche di questa sofferenza nostra. Quindi sono aspetti, confini, frontiere molteplici che bisognerà pure affrontare di volta in volta. Sindaco, per chiudere, chiudiamo con un messaggio di speranza, di auspicio per quanto riguarda il turismo, l'economia, che è la cosa più importante? È una cosa alla quale penso dall'inizio di questa pandemia. Tutte le grandi tragedie della storia hanno fatto risvegliare l'umanità poi in un altro mondo, un altro modo di pensare, un altro modo di parlare, un altro modo di agire. Io spero che domani noi potremo vendere, uso questa brutta parola ma per farmi capire, vendere il prodotto Italia, dal punto di vista turistico, il prodotto Sicilia, il prodotto Taormina nel suo piccolo, come un nuovo prodotto. Non possiamo ripresentarci con la stessa immagine di prima. Domani non venderemo più spaghetti, pizza, mandolino. Dovremmo vendere anche scienza, professionalità, capacità manageriale, organizzazione, disciplina. Io ho la speranza che l'Italia domani potrà essere sul piano internazionale anche un brand turistico, nuovo, diverso, più moderno, più contemporaneo e che possa veramente fare avvicinare le persone che amano l'Italia, perché le persone amano l'Italia. Poi ci considerano, come dire, un po' disorganizzati, un po' faciloni, un po' anche corrotti. La politica italiana è corrotta, lo dobbiamo dire. Questo viene fuori da tutte le classifiche mondiali sul tema. Beh, insomma, presentiamoci con una faccia anche diversa. E questo probabilmente ci renderà più simpatici, più attraenti. La gente verrà, sì, per vedere i nostri monumenti, per mangiare le nostre prelibatezze gastronomiche, per guardare il nostro mare, la nostra etna stupenda, ma forse potrebbero anche venire per noi, per vedere un popolo che lavora con professionalità, con serietà, con senso di responsabilità. E questo, io spero, potrà essere il turismo di domani. Sindaco, grazie per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro e grazie anche a quanti ci hanno seguito in questa diretta Facebook. Grazie a lei e grazie a tutti.